ormai nel web impazzono i video su come creare delle bevande gelatinose hanno un effetto particolare e originale oggi ho deciso di prepararli anch'io gli ingredienti per creare una bottiglia di coca cola di gelatina sono una bottiglia di coca cola da 500 ml e gelatina alimentare apro la bottiglia e verso tutta la coca cola nel pentolino metto sul fuoco inserisco la gelatina in polvere ben otto gustine lascio scaldare e mescolo bene il tutto e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nel frattempo stacco dalla bottiglia l'etichetta. Con un taglierino incido la bottiglia, in questo modo sarà più facile starla. Scoccio la fessura con del nastro adesivo, in questo modo quando verserò la miscela non uscirà. Musica E ora metto il tappo e lascio riposare in frigo per due ore. E' arrivato il momento di rimuovere il nastro adesivo. Taglio la bottiglia per estate la gelatina. Taglio la bottiglia. Taglio la bottiglia. E voilà! Ecco la bottiglia di coca cola è pronta, è davvero perfetta, possiamo tagliarla a fette, otterremo delle caramelle al sapore della celebre bevanda. Noi come sempre ci vediamo prestissimo, ciao a tutti amici! Grazie! Grazie!